Questa seconda parte della lezione sulla nascita del giardino paesaggistico inglese si occupa di un caso famosissimo di Lancelot Capability Brown e poi di alcuni esempi veronesi che sono entrati a tutto diritto nella storia del giardino, perché sono stati i primi esempi di parco all'inglese costruiti in Italia. Nel 1722 Blenheim viene donato a Sir John Churchill e viene fatto duca di Blenheim, dalla regina Anna d'Inghilterra, come ringraziamento, come pagamento per la vittoria di Blenheim durante la guerra di successione spagnola. Il duca di Blenheim fa costruire questa enorme residenza dall'architetto più famoso dal tempo che è appunto John Bambrog. Per inciso era duca di Blenheim, anche Winston Churchill, che è nato proprio in questo edificio. La parte di arrivo anteriore, già Blenheim aveva creato due laghi, però molto più piccoli, era praticamente un corso d'acqua che si allargava e bisognava attraversare un ponte, quello corrispondente al numero 5 per intenderci, per entrare nella, per affarciarsi appunto alla grande villa, al grande edificio. E tutto era preceduto da un asse di alberi a grande fusto con la colonna della vittoria, ovviamente, lì nella parte in alto. Però questo viale rettilineo, che è chiaramente monumentale e celebrativo, venne abbattuto da Capability Brown, proprio perché cozzava contro l'idea di parco all'ingrese, solo che nel 1905 uno dei duchi di Malborough, il padre di Sir Winston Churchill, lo fece ricostruire. Ma andiamo al progetto di Capability Brown e alla sua importanza. Capability Brown è forse la punta massima raggiunta da un landscape designer. A lui si devono più di 150 parchi in Inghilterra. Il suo concetto è un concetto proprio di riportare la natura, riportare all'interno della natura un'idea di natura naturale, che sembra appunto un controsenso, però lui non si faceva scrupolo di spostare grandi masse di terreno, costruire strutture in modo da favorire, da generare delle cascate e creare grandi spazi verdi, far arrivare il giardino, cioè l'erba, il tappeto, il grande tappeto d'erba che veniva costruito proprio in maniera molto, come si può dire, artificiale, fin sotto le pareti dell'edificio, creare appunto come al solito grandi vedute e utilizzare varie specie arboree, anche esotiche, in modo da avere dei contrasti di colore. Ecco, qui vedete come questi due grandi laghi generano proprio un ambiente in cui il palazzo di Vanbrug appare proprio come una sorta di isola. dal paese Woodstock, che vedete là in alto, c'è una delle più belle vedute del parco e dell'edificio in cui si inquadra anche una parte dei laghi. Il ponte era stato ritenuto eccessivo quando Vanbrug l'aveva costruito e Capability Brown pensò bene di riempire, di allagare proprio tutta questa zona, creando laghi che appunto, ripeto, non c'erano, erano degli slarghi nel torrente, creando quest'isoletta che vedete di fronte e invadendo proprio anche gli argini e quindi vedete che nella strada, dalla strada di accesso, si ha questa veduta proprio di questo grande parco, di queste grandi masse che si muovono, sono diverse, invece ci sono dei pioppi cipressini, ci sono degli ontani, cioè si ha alberi ad alto fusto svettanti, si ha alberi invece con una massa più sferica. Ancora un'altra veduta in cui si vede dietro invece il famoso viale ripristinato e invece in questa parte anteriore il giardino, diciamo così il prato come noi lo chiamiamo all'inglese e nella parte bassa dell'immagine qui a sinistra potete vedere dei cedri del Libano. Ecco questa è una delle grandi innovazioni di Capability Brown perché appunto introdusse specie arboree non autoctone per sfruttare diversi giochi di colore proprio dati dalle foglie e le zone di luce d'ombra create dalle masse arboree, quindi per lui la luce e l'ombra creata nelle zone o anche sulle superfici assumeva un valore importantissimo all'interno del parco, quasi come il chiaroscuro per un pittore. Altra invenzione di Capability Brown, a parte appunto gli spostamenti di grandi masse di terreno che gli causarono anche fortissime critiche, non è che tutto il mondo inglese fosse favorevole a questo modo di lavorare di Capability Brown perché veramente andava giù pesante con le sistemazioni di terreno. Noi parleremo di scavatrici di tonnellate proprio di terreno spostato. Ecco l'altra innovazione era quello dell'odore. Il parco di Capability Brown era anche un parco basato sui profumi che lui otteneva con speciali arbusti, quindi con essenze arbustive profumate, ovviamente erano essenze arbustive che non so la plumbago o altre che potevano resistere o alcuni tipi di lilium che potevano resistere alle enormi piogge, non certo i nostri magari gelsomini o alcune essenze dal Mediterraneo. Lui partiva sempre da una conoscenza molto approfondita del luogo che studiava a lungo, sia dal punto di vista noi diremmo chimico, geologico chimico, sia dal punto di vista delle preesistenze. E appunto questo suo soprannome Capabilities venne dal fatto, Capability scusate, che si racconta che lui e i proprietari che lo chiamavano a intervenire dicevano che il suo luogo avesse delle Great Capabilities, cioè delle grandi possibilità, sì sì ci sono delle grandi possibilità. Ecco l'altro aspetto come vedete da questa immagine è che in questi grandi parchi e giardini venivano inclusi anche fattorie, venivano inclusi ancora i tempietti, ancora i ponti alla cinese, grotte, rovine di castelli, addirittura alcuni proprietari pagavano degli eremiti perché vivessero all'interno di queste grotte e rendessero ancora più verosimile questa sceneggiata, mi viene da dire, dell'imitazione dei quadri dei quadri dei paesaggisti francesi. Ecco è questo un po' il paradosso del parco all'inglese che è una natura artificiale tanto quanto quella francese, perché anche qui c'è un intervento fortissimo, qui addirittura si sposta, dicevo, si spostano metri cubi di terra, si creano colline, si creano laghi, cioè capite? Si creano biosfere completamente diverse da quelle esistenti, introducendo poi le specie non autottone ancora peggio, no? Però questa natura, benché artificiale, deve avere l'aspetto della natura naturale, che è una natura naturale che non esiste perché deriva da un modello di un quadro. Quindi quello che noi adesso oggi vediamo come un parco che con questa natura libera, che sembra appunto consolare l'anima anche, che era un po' il mito di Lancelot Capability Brown e dei filosofi inglesi di appagare lo spirito di libertà dell'uomo, di fatto invece era quanto di più artefatto e artificiale potesse esistere, ecco. Oltre, diciamo che Lancelot Capability Brown è stato uno degli ultimi grandi landscape inglesi, dopo di lui venne Repton, il quale a Capability Brown contestò alcuni aspetti, tra cui la mancanza di fiori. Ecco, se avete visto in questo paesaggio non ci sono aiuole fiorite attorno al grande edificio di Vanbrugge, proprio il prato arriva fin sotto l'edificio, ci sono i famosi ha-ha per proteggerlo dall'arrivo degli animali, ma non ci sono fiori. Repton invece introdusse un giardino terrazzato vicino all'edificio, che non è un giardino formale, ma è un giardino di aiuole colorate, con essenze molto più semplici rispetto alle essenze utilizzate, per esempio il bosso era odiato da molti in Inghilterra, e invece delle essenze di fiori che erano più rustici, ecco, dovevano sembrare più rustici. Comunque anche a Repton si devono numerosi giardini molto importanti. Ecco, questa è la cascata, anche questa, sempre a Blenheim, è sempre artificiale, e anche qui vi faccio vedere, volevo mettervi, ho messo questa diapositiva per farvi vedere un cedro del Libano. Ecco, un cedro non è un'essenza autoctona, chiaramente, ma è utilizzata per il suo colore, infatti ha intanto una perenne, quindi non perde le foglie, e ha questi colori particolari, questo verde salvia molto scuro, molto cupo, che contrasta sia in primavera, sia in estate, con le foglie più giovani, magari dei pioppi, magari degli ontani. Ecco, capite cosa vuol dire giocare sul colore, ma giocare anche sulla forma degli alberi, che come notate, danno delle masse completamente diverse. Ecco, questo vuol dire fare il landscape designer. Passiamo invece adesso ai casi veronesi, che vi presento. Il primo è Villa Mosconi, ora Mosconi Bertani, a Novare, in Valpolicella, presso Arbizzano. I fratelli Mosconi acquistano la villa nel 1753, il progetto di Alessandro Cristofali è già iniziato, loro lo concludono e a partire dal 1759 i due fratelli, Giacomo e Guglielmo, danno l'avvio al progetto di questo giardino. Ma collabora con le sue idee anche un letterato importantissimo, che è Ippolito Pindemonte, che è un grande frequentatore di questa villa e del suo circolo di letterati e di intellettuali. Cosa introducono i due fratelli? Alle spalle della villa, mentre davanti a questa villa settecentesca c'è un piccolo giardino formale, dietro la villa si apre proprio un vero e proprio bosco, un bosco creato, ed è quello che vedete dove c'è scritto la parola laghetto e sopra, bosco che integrava ed integra la produzione dell'impianto delle viti. Quindi un'idea di parco fuso con l'agricoltura, che è la traduzione di quel parco fuso con la presenza degli animali, delle mucche e delle pecore dell'ambiente inglese. Quindi i mosconi sono tra i primissimi, a me risulta i primi attuatori in Italia di questa moda del parco libero. Cosa fanno? In primo luogo creano un laghetto. Questa fonte è una fonte interessantissima, perché questa risorgiva, è quella che riforniva a Verona durante l'epoca romana attraverso quell'acquedotto che si vede dal sottopassaggio che vediamo quando si entra a Parona. Se fate caso entrando verso Parona, sulla destra dove c'è la galleria c'è un'epigrafe in cui si cita un acquedotto romano. Ecco le acque di quell'acquedotto che arrivavano fino a Verona sono le acque di questa risorgiva. E qui viene creata una casetta, vedete, di stile nordico però, non di stile nordico francese, non di stile cinese come nel caso dei giardini di William Kent. Perché? Perché appunto Ippolito Pindemonte aveva viaggiato molto, pur essendo un letterato veronese, si era spostato anche nel nord Europa e aveva visitato queste, aveva visto questo tipo di edificio e lo suggerisce ai Mosconi. Siamo un po' più tardi, siamo agli inizi, alla fine, scusatemi, del Settecento. E qui nasce appunto questa casa per il caffè, non per il tè. Inoltre viene creata quell'isoletta che vedete sulla destra e il luogo viene arredato, potremmo dire così, con delle specie esotiche, tra cui dei taxodium e poi altre specie autoctone. che qui vedete un'altra veduta di questa casetta, insieme a Venve, mi viene in mente lo stile un po' della Germania, dell'Alta Germania, ma comunque insomma, diciamo così, più in generale dei paesi nordici. E vedete c'è una magnolia, cioè sono specie che nell'Ottocento diventano sempre più famose e vengono utilizzate nel paesaggio del giardino ottocentesco. Nei giardini formali non esistevano specie esotiche assolutamente. A parte, voglio dire, le collezioni, come la collezione di Cosimo dei Medici, degli agrumi della Villa di Castello, non esiste questo interesse per le specie esotiche che invece nascerà nell'Ottocento. Ecco, e qui vediamo un'altra parte a sinistra, scusate, vedete questo famoso bosco che prosegue lungo la collina e invece nella parte sottostante il vigneto, che è un vigneto esistente da allora. Cioè, i Bertani comprano la proprietà nel 1853 proprio perché è una proprietà ricca di vigneti. Ancora, qui c'è un viale di Ippocastani, vedete come si mescola la massa arborea con il vigneto e poi sullo sfondo ancora la questione delle masse arboree e qui vediamo un testo importantissimo perché non ho trovato la prima edizione. Questa che vedete invece è una seconda edizione, è di Taverona nel 1818, insieme a un altro saggio, ma è il famoso saggio sui giardini inglesi e sul merito in ciò dell'Italia, dissertazione di Ippolito Pindemonte, che fu una conferenza che lui tenne all'Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Padova nel 1792, dove appunto si parlava del modo di costruire, di progettare e di realizzare un giardino all'inglese. In una di queste affermazioni di Ippolito Pindemonte in questo testo asserisce che è ancora più ben voluto, ben accetto, favorito, la presenza delle rovine. No, avevamo visto la rovina, eravamo partiti dalla rovina del dipinto di Possain su Apollo e arriviamo e ritorniamo al concetto di rovina. Gli inglesi si erano creati le finte rovine, ma nel caso che vi mostro adesso, cioè Villa Sagamoso, Perez, Pompei a Illasi, la rovina c'è veramente ed è il castello che notiamo all'estrema destra dell'immagine. è il castello di Illasi, che da sempre fa parte del patrimonio dei Pompei. È appunto ai Pompei che si deve, ai Terzi, scusatemi, che si deve questa, no ai Pompei, questa villa, questa villa è anch'essa una donazione dalla Repubblica di Venezia, il territorio ovviamente, il dominio ai Pompei per aver combattuto a fianco dei veneziani e nel 1685 il Pellesina progetta e costruisce la villa che noi vediamo. Il Pellesina è un architetto veronese molto importante, ha viaggiato anche in Europa e a lui si devono tra l'altro una parte delle serre di Versailles. Comunque a metà dell'Ottocento Antonio Pompei decise di creare un parco all'inglese anche nei possedimenti di Illasi e vedete appunto le masse arboree, come si dispongono, come abbiamo visto, creando delle zone aperte e delle zone invece boschive, da questa foto aerea non riusciamo a riconoscere tutti i sentieri serpentinati, però la cosa interessante è che crea un percorso lungo sei chilometri che arriva fino al castello. Il castello sappiamo che è un mastio, è una rovina di un mastio, no? E anzi, ancora meglio, le vedute che si colgono all'interno del parco fanno sempre, hanno sempre come focus la rovina del castello. Quindi il parco è stato creato utilizzando, come sosteneva Ippolito Pindemonte, una rovina. E qui è una rovina medievale, ancora meglio, perché ormai siamo in pieno Gothic Revival e da lì a poco, tra l'altro, il Camuzzoni risistemerà il castello di Soave, dandogli l'aspetto che noi conosciamo. L'altra particolarità di questo bellissimo parco che per fortuna è stato ristrutturato alla fine del secolo scorso, l'ultimo proprietario l'ha ristrutturato dopo che i tedeschi nel dopoguerra ne hanno fatto uno sfaccello. La cosa interessante, dicevo, è che all'interno di questo parco era stato creato nel progetto ottocentesco un lago come appunto usava Capability Brown, come era uso, insomma, solo che il laghetto che viene creato si percepisce poco qui, nella parte proprio centrale aveva la forma del lago di Garda, quindi c'era una sorta di laghetto, di lago di Garda in miniatura dove si poteva andare in barchetta e quindi avere anche lo specchio d'acqua è una sorta di altra veduta paesaggistica che era quella magari più sublime della vista del lago e dell'acqua. Ecco, qui vediamo una veduta autunnale in cui riconosciamo la massa arborea e poi tutto il prato libero creando questo slargo e questa veduta e poi eccola qui la veduta del castello di Lasi, del Bastio e della Torre. Ecco, la cosa interessante è che qui viene lasciato il giardino all'italiana o meglio un giardino di fronte alle serre in stile moresco sono sempre ottocentesche però appunto come sosteneva Repton c'è un giardino attorno alla villa in questo caso attorno alle serre però si mantiene lo stile all'italiana.